Questa video-lezione è dedicata all'opera, alla vita e alla poetica di Umberto Saba, uno degli autori più importanti del Novecento. Da Saba delinea la linea saviana della poesia del Novecento, una poesia caratterizzata da un ritorno alla tradizione e da un netto contrasto rispetto a quella che è la linea novecentista della letteratura della poesia del Novecento, la linea novecentista, tanto per rintenderci, che compende Ungaretti e gli ermetici. In questa lezione cercheremo di vedere le caratteristiche fondamentali della poesia sabiana e soprattutto il suo contatto con Trieste e la specificità di questa figura di poeta nel panorama della letteratura del Novecento. Anzitutto chiediamoci perché Saba un classico. Beh, per tre motivi. Il primo, per l'ingenuità con la quale cercò di obbedire alla propria ispirazione, senza complicazioni intellettuali. Il secondo motivo è per l'ingenuità, il candore con cui ha saputo raccontarsi, con cui ha saputo dar vita, dar voce ai propri sentimenti, indagando i propri traumi infantili, la propria malattia, la nevrastemia che lo colpì per tutta la sua esistenza. E poi un terzo motivo per essere, diciamo, un autore estraneo rispetto alle poetiche dominanti del Novecento. Diventa il maestro della linea antinovecentista, che viene chiamata anche Lina Sabiana, una linea che comprende, tra gli altri, anche Sandro Penna, che fu anche amico di Umberto Saba. Come sempre, partiamo dalla vita. La vita in questo caso è fondamentale per capire l'opera dell'autore. Umberto Poli, che assumerà dal 1910 l'opsodonimo di Umberto Saba, nasce a Trieste nel 1883. La sua famiglia è composta dalla madre, Felicita Rachele Cohen, che appartiene a una famiglia ebraica, e da un padre, Ugo Edoardo Poli, che discendeva da una famiglia nobile di Venezia, che però abbandona la moglie prima ancora della nascita del figlio. Viene quindi affidato alle cure di una sbaglia, una contadina slovena di nome Peppa Sabaz, e resta con lei tre anni. Quindi, i primi anni dell'esistenza di Sabaz, fondamentalmente, ha stato contato con questa baglia. Viene accodito con affetto e tenerezza. Questa donna verrà chiamata Madre Lieta, da Saba. E, proprio per omaggiare, questa baglia cambia il cognome e assume il cognome d'arte di Saba, in ossequia lei alla madre e comunque anche alla sua gente e alla cultura ebraica. Infatti, Saba, in ebraico, significa pane. C'è quindi una volontà di aderire alla stilpe, alla religione materna, e di rifiutare l'identità paterna. Risulta quindi essere un adolescente inquieto e il suo universo è un universo fondamentalmente senza padre. Il distacco della nutrice viene vissuto poi come un drammatico strappo, come un evento drammatico della sua infanzia, come una sorta di perdita del paradiso. Saba però conosceva il padre soltanto vent'anni dopo, e capirà che tutte le storie raccontate dalla madre in realtà si rivelano fondamentalmente verità parziali. Partiamo, per analizzare la vita, da una linea del tempo. Una linea del tempo che va dal 1883, data di nascita, fino al 1957, quando muore. Nasce a Trieste, specificità di Trieste, una città multietnica, multiculturale, un porto franco, colava un posto sull'Adriatico dell'impero austriaco, austro-ungarico, e muore nel 1957 a Gorizia, all'età dei 74 anni. Qualche elemento biografico da ricordare. Beh, sicuramente nel 1915 partecipa alla Prima Guerra Mondiale, nelle retrovie, assinato ruoli amministrativi. Anche se la Prima Guerra Mondiale non avrà un grande eco nella sua produzione, a differenza di quello che ebbe invece nella produzione di Ungaretti. Nel 1919, dopo una breve sistemazione a Milano, ritorna a Trieste e diventa proprietario di una storica liberia antiquaria della città vecchia, città vecchia di Trieste. Nel settembre del 21, infatti, pubblica, con il macroeditoriale della sua liberia, la liberia antiquaria moderna, il canzoniere, la prima edizione del canzoniere. E nel 1929, a causa dell'aggravarsi della sua malattia, comincia la cura psicoanalitica. Viene praticata, in particolare a Milano da Trieste, questa cura da Edoardo Weiss, un allievo di Freud. L'efficacia della cura, alla quale Saba attribuirà comunque il merito di un sensibile miglioramento, è però destinata a essere compromessa dal trasferimento di Weiss a Roma, un anno più tardi. Nel 1938, il regime fascista, per simmiottare ITER, emana le leggi razziali. E dopo l'emanazione delle leggi razziali, Saba si trova in seria difficoltà. Nel tentativo di tutelare se stesso e la sua famiglia, cerca di appellarsi al sangue misto ed esce dalla comunità ebraica. Rifiuta però il battesimo, pregiudicandosi così la possibilità di gestire la liberia in prima persona. Questa liberia passa poi ad un nuovo titolare, formalmente. D'ombra d'armistizio, fugge a Firenze. Firenze che verrà chiamata da Luperini la città dell'anima, una città fondamentalmente antifascista. in cui erano presenti anche Montale e Carlo Levi. Nel 1945 esce Perenaudi, il canzoniere, vedete qua, nella seconda edizione, poi aggiornata nel 1948. Tuttavia Saba è insoddisfatto sia della veste editoriale sia della lezione di alcune poesie. E comincia così a seguire un lungo lavoro di correzione e di introduzione di varianti nella sua opera. Nel 1946, ancora a Milano, e nello stesso anno pubblica poi il volume interessante Scorcito dei raccontini. in estate, riceve sempre il primo vereggio, ma è costretto poi a ritornare a Trieste e il ritorno a Trieste lo farà sprofondare nelle abissi della sua nevrosi. In questi anni, negli ultimi anni della sua vita, pubblica anche il romanzo Ernesto, un lungo racconto postumo, che uscirà poi nel 1975, nella quale arrivo con un po' l'esperienza omosessuale che aveva avuto in gioventù. E muore poi nel 1957. Quindi, l'elemento biografico che più influisce, diciamo, nella poesia di Saba è Trieste. Trieste era nella periferia geografica dello Stato italiano e determina una formazione intellettuale dei tratti periferici e anomali, che comunque lo mette poi in contatto con la nuova cultura mito-europea. Così, così, riuscirà a essere influenzato da Nietzsche, da Freud, e sentirà in maniera viva le suggestioni di Kafka, Musi, Joyce. Questa esistenza, paradossalmente, lo porta a essere quasi peggiorato rispetto ai contemporanei italiani. Paradossalmente, la città resta quasi estranea ai fenomeni italiani che caratterizzano il primo novecento italiano. È influenzato, invece, da Kafka, Musi, Joyce. È influenzato anche dai libretti d'opera. In particolare, dal filosofo tedesco Nietzsche, il poeta apprende il metodo dell'aforisma, che gli chiama scorciatoie. L'opera scorciatoie raccontini ci dimostra questa influenza. Nietzsche, fornisce alla giovane Saba la convinzione che nel profondo la vita di tutti gli esseri viventi è un nodo di amore e di dolore, bisogno di essere amati e anche capacità di soffrire. Saba non apprezza il Nietzsche dell'Ubermensch, ma apprezza, invece, il Nietzsche del psicologo, l'indice che rappresenta un preludio alle scoperte di Freud. Alla letteratura, come compiacimento estetico, tipica dell'ultimo d'annunzio, Saba contrappone, invece, una poetica all'insegna dell'onestà. Per lui la poesia richiede un impegno morale e la chiarezza è parte di tal impegno. Per questo, è lì fa suo, un famoso motto Nietzscheano. Siamo profondi, ridiventiamo chiari. L'altro elemento biografico è la nevrosi. La nevrosi, i disturbi psichici, che lo fanno entrare in contatto con la psicanalisi. Soprattutto, l'infanzia, l'esistente, è nata dall'assenza di una figura paterna. Del padre, Ugo Edoardo Poli, che viene chiamato dalla madre l'assassino perché abbandonano Rachele ancora incinto a di Umberto. La sua vicenda è anche una vicenda che è caratterizzata dalla seconda guerra mondiale, dalle vicende anche un po' sbelliche, ma in particolare un modo dalla parentesi veramente ignobile del reggi razziale del 1938. Trieste e il rapporto con Trieste è rappresentato fondamentalmente in questa poesia. Una delle poesie più belle e più belle di Trieste che rappresenta Trieste. Una poesia che ci rappresenta una città croceva di popoli, di culture, bullicanti di vita, col porto, le vicole, le osterie, ma nel frattempo è anche una città riservata, diffidente, che rispecchia un po' la contraddittorietà dell'anima sabbiana. Trieste non è soltanto un luogo, è la vita stessa del poeta che il poeta vede fluire e il rapporto è un rapporto che è uscita fra l'attrazione e la repulsione. Saba proietta nella città solitaria e chassosa, dolce, aspre insieme le proprie tensioni e ambivalenze affettive. Cioè, da una parte Saba è animato dal desiderio di immergersi in questa vita calda, ma dall'altra sente il desiderio di solitudine, tra volte di contempare quei luoghi dall'alto, da un cantuccio solitario, da dove può cogliere questa aria natia. e leggiamo un po' questa poesia che fa parte del canzoniere Città Vecchia. L'inizio è tipicamente baudelariano, ricordo un po' l'albatro di Baudelaire che comincia anche quella poesia con spesso. Spesso per ritornare alla mia casa prendo un'oscura via di Città Vecchia. Giallo in qualche pozzangra si specchia qualche fanale e affollate la strada. Qui tra la gente che viene e che va dall'osteria alla casa all'upanare dove sono merce d'uomini il detrito di un gran porto di mare io ritrovo passando l'infinito nell'umiltà. Qui prostituta marinaio il vecchio che bestemmia la femmina che bega il dragone che si dà la bottega all'effriggitore la tumultuante giovane impazzita d'amore sono tutte creature della vita e del Signore saggitenesse come in me il Signore qui degli umili sento la compagnia il pensiero farsi più puro dove più turbe è la vita. Quindi un versico basso la presenza di rime di versi comunque tipici della tradizione italiana e dei cassillabi il verso classico della poesia sabbiana lo vedremo e poi soprattutto l'ambientazione i personaggi quotidiani un nio lirico basso quotidiano che non cerca di apparire diverso da quello che è come invece poteva essere ad esempio l'io lirico d'Annunziano. Un'altra poesia invece che rispecca molto bene invece il complesso edipico e fondamentalmente la nevrosi ha doppia personalità di sabbè questo sonetto è un sonetto che è compreso anche questo nel canzoniere famosissimo mio padre è stato per me l'assassino mio padre è stato per me l'assassino fino ai vent'anni che l'ho conosciuto allora ho visto che lì ero un bambino e che il dono che io ho da lui l'ho avuto aveva in volto il mio sguardo azzurrino un sorriso in miseria dolce astuto ando sempre per mondo pellegrino più di una donna l'amato e poi asciuto e le ragalle le giro mia madre tutti sentiva dalla vita i pesi e gli sfuggi come un pallone non somigliare ammoniva tuo padre e di più tardi me stesso lo intesi erano due razze in antica tensione quindi la doppia appartenenza ma alla fine la consapevolezza di essere molto più vicino al padre di quanto non pensasse e poi comunque la permanenza al novecento della forma sonetto però innervata delle nuove acquisizioni di Freud della psicanalisi compresso di Edipo insomma elementi sicuramente moderni rispetto a quella che può essere la struttura classica di un sonetto la poetica di Sava viene espressa in uno scritto molto interessante quello che resta da fare ai poeti è enunciata in questo articolo che era stato proposto nel 1911 in vano per la pubblicazione su una rivista fiorentina La Voce e che però uscirà soltanto posthumo nel 1959 con ingenuo coraggio Giovanni Sava esprimendo la concezione della poesia lontana dall'estetismo e dal superomismo d'Annunziano così come anche dalla furia dell'avanguardia dei futuristi ma anche della poesia mestra dei crepuscolari l'assunto dell'articolo si può riassumere in una semplice frase ai poeti non resta che fare la poesia onesta la poesia onesta è la poesia comunque autentica sincera che esprime l'interiorità dell'autore che rispetta la tradizione dal punto di vista sia del lessico che della metrica che utilizza delle parole che possono essere trite che si serve di strutture metriche tradizionali in un primo tempo Sava pensava di intitolare la sua raccolta a chiarezza poi decise invece di chiamarla canzoniere con un esplicito riferimento a Relum Volgane un fragmento a Peter Archesco che noi conosciamo fondamentalmente con il titolo di canzoniere così esprimeva il suo richiamo alla tradizione alla poesia onesta e faceva da contraltare agli sperimentalisti del novecento i futuristi gli avanguardisti gli ermetici ma sarebbe sbagliato pensare che la poesia di Saba sia una sorta di riproposizione in genere del novecento della poesia di Petrarca le formometriche conferiscono sicuramente un ritmo regolare un'armonia il sonetto è sicuramente una formometrica tipica della tradizione ma d'altra parte abbiamo una rilevante frantumazione di tipo di tipo ometrico con l'utilizzo di un inversor con l'utilizzo comunque di pause con una rima apparentemente facile che cela comunque un messaggio profondo inserisce quindi un contenuto lacerato una poesia e soprattutto la innerva con le nuove acquisizioni della psicanalisi Saba contrappone quindi una ricerca politica all'inizio dell'onestà per lui la poesia richiede un impegno morale e la chiarezza è parte di questo impegno per questo bisogna essere chiari usare un linguaggio semplice fruibile al pubblico è disonesto essere oscuri secondo Saba Mengaldo giudica in maniera autorevole la poesia di Saba e in una sua raccolta dell'interrogio del novecento nel petto novecento scrive in Saba le parole usuali acquistano valore tematico amore vita cuore anima bello antico nuovo tali da convertire l'esistenza individuale in una storia emblematica di tutti in Saba come il Leopardi e Montale presenti il nucleo tematico del dolore universale per Leopardi del canto notturno tutti gli esseri diventi sono andati per soffrire e la natura è indifferente nel pessimismo cosmico al loro dramma anche Montale nella poesia che vedremo spesso il bar di vivere ha incontrato vede una possibilità di fuori dal dolore soltanto nell'indifferenza intesa come possibilità di distaccarsi dal male del mondo invece Saba è più inclina a stabilire un rapporto di fraternità con il prossimo e di amore con tutte le creature nella poesia la capra la condizione esistenziale della capra che bella solitare sotto la pioggia è uguale a quella di tutti gli esseri viventi e le cheggia sia il pessimismo cosmico del canto notturno sia l'apertura ricordate solidaristica dal ginestro alla social catena secondo Contini Saba sarebbe addirittura un poeta psicanalitico ancora prima della psicanalisi questo giudizio è un giudizio molto interessante che sicuramente va valorato infatti il canzoniere si può definire come una sorta di romanzo psicologico nel quale il poeta ha sempre diciamo la necessità di andare a fondo della sua coscienza e di parlare non soltanto di sé ma anche dell'uomo c'è un recupero dell'infanzia che secondo Freud è la fase della vita più importante e che dà tantissime ripercussioni sulla vita adulta e in Saba traumi ricordano dei traumi dei traumi ad essa connessa il rapporto con il padre assente il rapporto con l'amata Baglia Peppa la volontà di vedere nella donna una sorta di nuova nella moglie Carolina Wolfer una nuova madre e soprattutto è forte l'influenza di Edoardo Weiss questo è questo levo di Freud che era il primo divulgatore della psicanalisi in Italia queste cure psicanalitiche a cui si sottoporà comunque periodicamente non risolveranno mai il suo malessere ma comunque risolveranno una chiave per comprenderà meglio la sua infanzia e la sua adolescenza la poesia di Saba in pillone quindi ritorno a una versificazione regolare e soprattutto a ritorno al sonetto e la canzonetta spesso anche in corone corone dei sonetti insieme di canzonetti di canzonette e poi riprisano della rima non pratica mai verso libero non usare mai neanche dei versi doppi che potrebbero recitere ad esempio la misura aurea dell'endecasillabo ha come sono i modelli Petrarca Leopardi Dante che però stempera con un linguaggio complessivamente più semplice rispetto agli illustri antecedenti e soprattutto si serve di una discursività prosaica che sarà tipica anche di montare le poesie sono una sorta di racconto e per quanto riguarda la rima riprende la rima e la usa anche consapevolmente lo esplicita nella sua poesia famosissima Amai presente nel canzoniere che è una sorta di dichiarazione di poetica oltre allo scritto del 1911 Amai sentita parole che nessuno che non uno osava mi incantò la rima fiore-amore la più antica difficile del mondo è una rima antica quella fiore-amore tipica della poesia d'origine dello stilnovo di Dante di Petrarca ma è difficile da usare perché come è allogorata il poeta deve essere molto forte molto sicuro di sé per poter utilizzare ma con questa rima risulta fondamentalmente onesto a se stesso e agli altri lo scritto quello che resta da fare ai poeti è uno scritto in cui contrapone due poeti famosissimi Manzoni e D'Annunzio egli antepone in questa poesia Manzoni al D'Annunzio convinto dell'immortalità di ogni artificio come nell'arte e come nella vita e contrappone ad esempio gli inni sacri e la delchi con il secondo libro dalle laudi e la nave versi mediocri e immortali e magnifici versi e caduchi da una parte i versi degli inni sacri e della delchi sono sicuramente meno musicali rispetto a quelli D'Annunzio ma sono comunque onesti e saranno immortali invece D'Annunzio fa poesia sicuramente molto artificiosa melodiosa musicale ma non è poesia in cui finge sentimenti che non prova e quindi è una poesia che è destinata alla caducità alla caducità e alla caducità non è sicuramente affidato il canzoniere un romanzo in versi composto in circa in 50 anni dal 1900 fino al 1954 comprende 26 sezioni distinte cronologicamente poi in tre parti e l'idea del canzoniere comincia a formarsi nel 1913 e quindi la volontà della poesia come storia della sua vita inizia quindi un costante lavoro di riorganizzazione del materiale poetico è una ricostruzione psicologica e storica di un'intera esistenza l'interrogazione su se stesso e da parte del poeta i secondi componimenti devono essere considerati però nella loro visione complessiva come segmenti di una storia più ampia così come il canzoniere di Petraca quindi le rime in vita di Laura di Madonna Laura le rime in morte di Madonna Laura queste sezioni queste 26 sezioni sono divise cronologicamente distinte cronologicamente in tre parti giovinezza maturità e vecchiaia qualche caratteristica beh sicuramente la divisione in tre parti tra un numero molto presente nella letteratura italiana e nella posa italiana tre sono le cantiche della commedia ma anche un'opera che ispira sicuramente Saba amorum libri tres i tre libri d'amore di Boiardo ma anche le tre sezioni del problema paradisiaco di D'Annunzio dall'altro il numero tre scandisce cronologicamente l'esistenza la giovinezza del volume primo la maturità del volume secondo e per la vecchia del volume terzo le poesie stabiliscono dei rapporti fra di loro e si pongono come singoli come singoli capitoli di un romanzo di un romanzo altro elemento è sicuramente l'impiego di strutture chiuse quindi no ai versi liberi si ad esempio a corone di sonetti cicli di canzonetti strofe legate tra loro da parole rima oppure da ritornare del refrain e poi le affinità tematiche quindi la presenza ricorrenza di figure come quella delle fanciulle della nutrice peppa sabatz della moglie insomma una vicenda che si è topografica ma anche che è simbolica viene comunque rilavorata attraverso la letteratura e la prima edizione data 1921 la seconda è del 45 e un testo molto interessante e che testimoni il valore che per sabatz aveva quest'opera è storia e cronistoria del canzoniere testo molto particolare testo molto particolare è scritto fra il 44 e il 47 pubblicato poi nel 48 e giocosamente presentata come una tesi di laurea di un certo Giuseppe Carimandrei è un testo ambiguo in cui il poeta afferma la più spavale e tranquilla coscienza del proprio valore e dà indicazioni che schiudono in modo diretto e sconvolgente le sue poesie il poeta si fa commentatore di se stesso fornisce tortuosi giustificazioni modificati artificiosamente il percorso dei processi della sua scrittura il poeta si fa commentatore di se stesso è un elemento sicuramente nuovo nella poesia del 900 quindi queste partizioni interne quindi volume primo 125 liriche in 9 sezioni volume secondo il più breve 105 test in 8 sezioni interessante si conclude con le poesie di ispirazione psicoanalitica del piccolo Berto in suo nome Umberto Saba rileggi il passato e ricerca un po' le cause del suo malessere terzo volume invece raccoglie più liriche e si conclude con le semplici della vecchia giunto nel tempo della sapienza Saba tenda diciamo a recuperare anche la tradizione mitologica letteraria che va un po' oltre il dato autoipografico ultimo elemento di Saba è sicuramente questo romanzo un po' particolare il romanzo incompiuto Ernesto scritto durante un ricovero in clinica Roma è un romanzo a tema omosessuale che l'autore considerò impubblicabile rimane incompiuto ma esce poi postumo nel 75 è una riflessione autobiografica che scava in remote vicende personali la traumatica separazione dalla baglia la mancanza di una figura paterna insomma lo porta ad un'adolescenza fondamentalmente inquieta e racconterà poi da vecchio in questo romanzo una sua esperienza omosessuale durante l'adolescenza e Ernesto dell'alterego di Umberto Saba è un bellissimo ragazzo di 16 anni che riceve una doppia iniziazione sessuale sul luogo di lavoro con un operaio e una casa di tolleranza con una prostituta segue la volontà di porre termine da questa relazione confessano a tutta la madre un nuovo intenso rapporto d'amore e di amicizia aveva chiesto alla figlia alla figlia Linetta di distruggere questo manoscritto ma invece fu conservato e venne pubblicato quindi figura di Saba sicuramente interessante è un autore che viene considerato ingiustamente un autore banale e semplice in realtà è un autore cardine dal novecento tanto dal punto di vista letterario quanto dal punto di vista dell'acquisizione filosofica bene spero che sia stato tutto chiaro arrivederci alla prossima video lezione grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti